Dal Sacromonte di Ghifa con la sua bellissima vista sul Lago Maggiore la nuova puntata di Laghi e Monti. Vi mostreremo un pochino il Sacromonte ma parleremo anche di GAL, di bandi GAL, di progetti e sentiremo cosa è stato realizzato dai beneficiari dei bandi pubblicati negli anni passati. Faremo tutto questo insieme con il presidente del GAL, Laghi e Monti, Marco Cerutti. Marco, tra l'altro è un periodo importante questo per il GAL, è un periodo di programmazione. Certo, stiamo definendo quello che in passato si chiamava piano di sviluppo, oggi è strategia di sviluppo locale del nostro territorio, lo si sta facendo ascoltando sia le imprese che gli enti pubblici. In modo particolare cercheremo di fare degli incontri mirati su diversi tematismi. Il primo sarà martedì prossimo, martedì 29, alle 17.15 verso la provincia di Verbano Cusiossola col presidente della provincia e i suoi tecnici dell'area forestale perché parleremo di gestione dei nostri boschi, di gestione dei boschi, di imprese forestali, di impianti di trasformazione del legno ma anche di impianti a biomassa per la valorizzazione anche per fini energetici del legno e quindi del lavoro che si fa nei boschi del nostro territorio. È importante per chi è interessato, siano queste imprese e enti pubblici, venire perché insieme dobbiamo decidere quali bandi andare ad attivare con questa nuova programmazione legate in modo particolare a questo settore. C'è anche un questionario che è possibile compilare sul vostro sito? Sì, proprio per definire questa strategia noi abbiamo bisogno di sapere quali sono le necessità, le volontà, le idee che il territorio ha sia da parte delle imprese che da parte degli enti pubblici. Quindi andando sul sito www.gal.lagiemonti.it c'è la possibilità di compilare un questionario online dove semplicemente si dice se sia impresa, se sia un ente locale, qual è l'obiettivo che si vorrebbe raggiungere in termini di investimento, in termini di progettualità con la nuova programmazione, l'entità dell'investimento e soprattutto se si vuole essere contattati per poterne parlare con la struttura tecnica e per capire se questa idea è un'idea che può entrare all'interno della strategia di sviluppo del nostro territorio.